Ok, Stefano, domanda curiosa. Siete fantastici, posso fare una domanda? Aspetta. Ok, falla. Esistono posti paragonabili a Tenerife? Grazie cari. Allora, la verità è che esistono posti a seconda di come te possono piacere. Cioè, a noi piace Tenerife. Vieni a fare un giro a Tenerife, vieni a vedere magari com'è. Ci salteranno alla gola, però voglio subito girare la frittata, perché sono bravo in comunicazione. Quindi vi faccio un'altra domanda. Ci sono posti paragonabili all'Italia? Non ci sono posti paragonabili a Tenerife. Tenerife è unico, come tanti posti del mondo. Come sicuramente è unica anche l'Italia, ma ti dirò di più. Le regioni dell'Italia sono uniche, perché come si sta in Puglia non si sta in Basilicata o in Piemonte. Ogni pezzettino dell'Italia è veramente un posto a parte, unico, bello, con le sue caratteristiche. Purtroppo le cose che accomunano l'Italia in questo periodo sono tutte negative negli ultimi anni, come l'aumento delle cartelle esattoriali che stanno arrivando, l'aumento delle tasse, l'aumento della benzina. Tenerife è un certo movimento di privazione delle libertà dell'individuo che io ho rilevato essere in atto da parecchi anni, non negli ultimi due o tre anni, ma proprio da prima ancora che io mi spostassi. Tenerife è un'isola tropicale dove si sta bene, ma non è le Maldive dove non c'è niente da fare. Quindi dopo due settimane mi vedi a fare il business plan sulla sabbia col dito perché mi annoio. Tenerife è pieno di strutture, di cose belle da fare, tant'è che adesso stiamo colonizzando anche alcune situazioni per fare serate di correnti, stiamo mettendo in piedi un'associazione ludico-culturale per fare attività perché cominciamo ad essere tanti ed è bello che ci frequentiamo tranquillamente. Tra l'altro qui magari si può uscire la sera, dalle 6 alle 9 e mezza c'è il sole, quindi il sole tramonta alle 9 e mezza, immaginati. Puoi proprio passarti anche delle belle giornate, che in Italia non c'è questo tipo di discorso. In più le Tenerife sono tutti gentili, gentili e disponibili, quindi non vai in giro come in Italia che in alcuni negozi ti guardano magari male addirittura quando entri. Ed è così ragazzi, è così. Ti racconto l'ultima di stamattina alle poste, no? Sei mai andato alle poste in Italia Paolo, immagino di sì, per il passato, no? È il meno possibile ma purtroppo ho avuto anche io questa disavventura. Ok, stamattina sono dovuto andare perché mi era arrivata una cosa che avevo ordinato in posta e io ci sono andato pochissimo. Stamattina ho fatto caso a una cosa, che al Correos non usano le divise. Cioè ognuno va vestito come le posta di Tenerife. Chiaramente. Non usano le divise, nel senso che ognuno va vestito come gli e pare. C'è un ragazzo che magari ha il capello lungo col codino che è un pochino, non lo so, mezzo, che lavora là tranquillo e sereno in grazia di Dio. Ok? Sì, qua sono facili. Questo è il clima. Esatto. Non c'è nessuno che ti guarda strano per come ti vesti, anche perché la gente si veste nei modi più variati possibili, anche in modi a volte veramente improbabili, però ci sono anche turisti inglesi, turisti tedeschi che insomma sapete come vanno in giro in vacanza. Bello, è bello. Qua gli operai la mattina alle 6, quelli che puliscono gli agliuole, che tra l'altro di solito sono i detenuti che stanno scontando una pena, che fanno questo lavoro sociale, cantano, tu passi e cantano, mentre puliscono gli agliuola, tagliano l'erba, fanno le cose. E proprio in merito a Tenerife Paolo, essendo che, lo stiamo dicendo in realtà con qualche aneddoto, che è un ambiente bello pulito, luminoso, potenziante, che c'è l'occasione di venire a toccare con mano anche noi, a toccarci con mano a luglio, giusto Paolo? Che in realtà abbiamo i nostri eventi a Tenerife. Grandissimo l'aggancio, Flavio, ormai sei un encomer da paura. A luglio abbiamo l'ultima tappa del percorso. Grande, andiamo verso 12 minuti alla fine della diretta ed è ora di parlare dell'evento di luglio. Lo trovate nel nostro store su Liberi dal Lavoro, quindi non stiamo a condividere neanche la pagina, lo trovate in evidenza. Praticamente che cosa abbiamo fatto quest'anno? Quest'anno abbiamo fatto delle tappe dove noi come team abbiamo detto invece che andarci a formare noi dai formatori, adesso che siamo grandi, facciamo venire i formatori qua a Tenerife, contattiamo i migliori formatori italiani, li facciamo venire qua per fare la nostra formazione. E la struttura che poi abbiamo scelto per fare questa stagione, perché è durata un anno intero praticamente, è l'Accademia Nazionale della Voce di Daniela De Meo, la voice coach numero uno in Italia, che tra l'altro io l'ho già conosciuto poi tempo fa, ho scoperto, quindi il mondo è sempre molto piccolo. Ci siamo trovati non bene di più, benissimo, sono davvero bravi, molto bravi, è venuta col suo staff, abbiamo fatto un po' di tutto, e abbiamo permesso alle persone di assistere a questa formazione, quindi di fare in maniera indiretta e anche diretta, perché in realtà poi c'è interazione, formazione con noi, che è una cosa che non fa mai nessuno. Intanto i formatori non dicono mai che si stanno formando da altri, preferiscono fare quelli che sanno tutto loro. e invece secondo me non bisogna mai smettere di formarsi, mai, mai, mai ce ne imparare, sempre. Ed è bello creare network anche di persone che condividono con te un certo tipo di valori, ok? E quindi con Daniela al di là di tutto è nata proprio una bella amicizia personale, con Daniela, con Emanuele e con Riccardo, con Stefano, con tutto il suo staff insomma. E finisce questa avventura a luglio, finisce perché effettivamente abbiamo fatto sei tappe, sono state molto impegnative per noi, perché vuol dire passare una settimana insieme, mangiare, dormire insieme, cantare, ballare, fare raccontarsi le barzellette, fare spettacoli, giochi. Abbiamo proprio vissuto, io vivevo lì dove c'era l'evento, e vivrò lì dove c'era l'evento anche questa tappa. Sono eventi che si possono fare con un numero abbastanza piccolo di persone, quindi 30-40 persone, non si possono fare con mille persone. Ci si conosce in maniera molto intima, si fa amicizia non solo con lo staff, ma anche tra di loro, quindi poi si coltiva questa amicizia, ci aiuta anche a raggiungere i nostri obiettivi. E questa è l'ultima tappa che facciamo di questo tipo, perché poi l'anno prossimo abbiamo bisogno di andare avanti, sì con la formazione come sempre, però di ottimizzare un po' più i tempi, perché pensate che ogni settimana bloccava lo staff di liberi dal lavoro che si formava per una settimana intera, quando se noi ci formiamo da soli, senza il pubblico, quello che facciamo in una settimana lo facciamo in un giorno, ok? Quindi c'è bisogno anche di dividere un po' le cose. L'anno prossimo si andrà verso eventi diversi, fatti magari in hotel, più orientati a farsi anche la vacanza, con della formazione dentro, più adatta a un pubblico di 100, 150, 200 persone. Cose diverse, insomma. Quindi hai la possibilità di partecipare a quest'ultima tappa, che sarà dal 12 al 19 luglio, saranno sei giornate di formazione, alcune con Daniera, alcune con noi, e se manchi questa, non ci sarà mai più un'occasione del genere. Per chi ci vede la prima volta, può sembrare il solito spot televisivo, mai più un'occasione del genere, ma per chi ci segue da anni, sapete che è così, ok? Se lo diciamo è perché è così. Questa è l'ultima tappa di questo tipo. Quindi se potete venire, fatevela la vacanza qua, invece che farvi la vacanza a stravaffanculo, in Pilati, in spiaggia, con gli altri che vogliono pagare 800 euro, lo sdraio al giorno, venite qua a Tenerife, fate una bella vacanza a studio, con la vostra famiglia, una settimana, magari ne attaccate anche un'altra, se potete, visto che qua, la vacanza è ancora più accessibile che in Italia. Così fate due vacanze, mentre la famiglia fa il mare e il sole, voi venite a farvi la formazione, state col team dei liberi dal lavoro. Tornerete a casa con un'energia talmente forte, ma talmente forte, che la televisione la rompete a testate, non la volete sentire, la buttate dalla finestra. Se tornerete a casa. Se tornerete a casa, perché hai ragione, c'è l'effetto collaterale, che ogni volta che facciamo queste tappe, c'è qualcuno che non torna a casa. E non sto scherzando, ogni volta, anzi, il primo gruppo erano otto persone, su otto persone cinque non sono tornate a casa. E sono ancora qua, ok? Non è che non sono tornate a casa per un po', no, no, sono ancora qua. Cioè vivono in casa, non è che sono barboni che vivono lungo i fiumi, no, 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 vivono alla grande, vivono da superviventi tutti. Anzi, alcuni sono da vivere insieme, così condividono poi le ville di lusso, dove ci sono tante stanze. Che cosa buona e giusta, insomma. È la loro età, sì, insomma, 20-30 anni, è bello avere queste situazioni con la villa, la piscina, ognuno ha la sua stanza, però la cucina tutta insieme, si mangia insieme, è bellissimo. Grazie a tutti.